È stato approvato pochi giorni fa al Senato il decreto sicurezza che ora passerà alla Camera. Il tema più dibattuto è quello che riguarda l'immigrazione perché sono previsti diversi cambiamenti. Viene abrogato il permesso di soggiorno per motivi umanitari, che sarà sostituito da altri tipi di permessi specifici. Un punto questo che preoccupa gli enti e le associazioni che da anni sono sul campo per dare una risposta dignitosa a chi arriva nel nostro Paese. Le preoccupazioni ci sono, soprattutto per chi si occupa di grave marginalità come noi, come la Caritas. Ci preoccupa perché il decreto sicurezza prevede alcune situazioni per cui il disagio potrebbe aumentare in strada. La prima di tutte è il non riconoscimento dei motivi umanitari. Questo ci preoccupa perché creerà sacche di disagio che andranno ad accrescere in una situazione già problematica. L'articolo 12 riguarda il ridimensionamento del sistema SPRAR, che sarà rivolto solo ai minori non accompagnati e ai titolari di protezione internazionale, mentre i richiedenti asilo saranno accolti nei CARA, centri appositi per loro. SPRAR è quella istituzione che già da 16 anni il Ministero dello Stato italiano ha previsto per la protezione delle persone che richiedono asilo politico. È un sistema per noi valido, che noi appoggiamo, su cui anche noi ci stiamo impegnando e riteniamo che questa sia una strada buona, corretta, per portare all'obiettivo dell'inclusione, dell'integrazione di queste persone che vengono come richiedenti asilo politico. Ecco, quindi il decreto sicurezza un po' lo depotenzia e anche questo ci crea qualche interrogativo. Quando si parla di invasione, che cosa ci dicono i numeri? No, ecco, credo che questa sia una domanda interessante. I numeri non sono per nulla da invasione. Parliamo di una percentuale bassa di persone che stanno venendo in Italia chiedendo asilo politico. Credo quindi che bisognerebbe anche fare delle riflessioni oggettive e realiste rispetto al numero di persone che sono sul territorio richiedendo asilo politico, perché parliamo di numeri veramente bassi. Prevista anche l'assunzione di 172 funzionari per la gestione delle pratiche di immigrazione retrate.